Non dimentichiamo che sta per arrivare, sta arrivando la stagione influenzale, sarà una sfida nella sfida, per l'influenza c'è un vaccino, vaccinatevi, vaccinatevi per l'influenza, non solo gli ultra 65 anni e i malati cronici, le persone fragili, ma tutti quelli che possono farlo lo facciano, perché saranno protetti da una malattia comunque importante che si confonde con il Covid. Non vorrei dovermi trovare con i pronto soccorsi stipati di sindrome respiratorie febbrili e avere difficoltà nel distinguere l'influenza dal Covid. Stagione influenzale alle porte, ecco l'appello di Francesco Minichetti dall'azienda ospedaliera universitaria a quello di vaccinarsi. La situazione è al momento sotto controllo, dice Ilea Primario di Cisanello, e così va mantenuta. Ma per il vaccino anti-Covid? Beh, la risposta è duplice, perché esistono i tempi della sperimentazione che non debbono e non possono essere forzati, perché noi vogliamo avere a disposizione vaccini sicuri ed efficaci. Quindi non lesiniamo, non abbreviamo i tempi, i tempi saranno i primi del 2021 e tant'è. La richiesta sarà alta a livello mondiale? Tutti vorranno il vaccino per il Covid, non so se riusciremo ad averlo. Il vaccino proteggerà in parte, proteggerà per una durata limitata, quindi sempre dovremo fare agio e concentrarci sulle regole di prevenzione, che ci riguardano tutti.